Oggi dovremmo combatterci tutti quanti! Siete pronti i miei valorosi combattenti? Ok, allora, praticamente, nonno e Nick, venite con me insieme, forza, io intanto apro questa porta No, ma che tigrazza Sì, adesso vi spiego tutto quanto, voi due invece andate da soli, ok? Praticamente, perché questa è una nuova serie, e noi, come vedete, siamo in questa mappa qua Noi qua potremmo vedere e trovare tutte le armi nelle ceste che ci sono qua dentro E praticamente, ad un certo punto ci dovremmo incontrare appena finiamo, non lo so, appena, appena ci, insomma appena ci vediamo Ci, avete capito, no? Sì, sì, abbiamo capito Andiamo, non rompiamo le palle agli altri, quindi iniziamo subito Forza, venite, venite Andate, stupidi, vecchioni, scorgiubu, avete capito? Adesso noi invece dobbiamo andare qua in queste case e cercare di trovare qualche arma Eh, esatto, esatto, andiamo Andiamo, dobbiamo iniziare a capire bene dove si trovano tutte le cose Perché praticamente più appunto troviamo queste cose Più abbiamo probabilità di vincere E noi dobbiamo vincere Perché allora ovviamente nei commenti mi scriveranno Se vinciamo secondo loro oppure no Io ho trovato della carne marcia per ora Beh devo dire Non è proprio utile questo Vabbè devo dire è molto utile invece Nonno sei stupido perché non è vero E per cosa? E se tu No 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 Praticamente se tu praticamente gliela dai al nemico Questa qua uccide tutti Quindi è utile Il nemico deve essere un po' imbecile No praticamente la scambi come tipo una carne prelibata Ok ho trovato delle ammo Delle munizioni molto buone Ok bene bene Un sacco di robe buone Anch'io trovo un sacco di roba Ok bene 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 Ci dobbiamo preparare perfettamente Perché così almeno riusciremo a sconfiggerli Quei due Quei due signori Esatto proprio quelli Però sono sicuramente meglio di voi due messi insieme Questo ne sono abbastanza certo perché Ma no perché? Ma scusate ma voi due dovete parlare insieme Che si capisce tutto di certo Tutto quello che dite Eh? Oppure E poi dopo nessuno poi parla Oh ma santa Maria Dobbiamo parlare così Eh? Cos'è che hai detto? Dobbiamo parlare così Eh direi che no Nick ovviamente Ciocchino Per farmi perdonare c'è un regalo per te Oh fammi vedere il tuo regalo Allora se hai trovato un'arma Ok Hai capito bene Non ci credo Ma nonno che vecchio marpione Lo so Adesso dammi un bacio Che ci ce l'america No che schifo No come? Vieni qua che devo dare Non ho ballina No 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 Va bene va bene dai È vero sei vecchio Hai 347 anni quindi non voglio nemmeno darti un bacio Che schifo Tu sei troppo vecchio Comunque qua Ho trovato una mazza da baseball Questa qua ve la do in testa Eh anch'io ne ho trovata una Ed è molto forte Ok ve la do in testa Nel caso vi comportiate male Tipo così Pam Aia No 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 Ma hai reso zoppo Ma seriamente Ma davvero Ho visto correre Vabbè però scusa ma si può recuperare vita Qua Eh in realtà non lo so E spero di sì Ok stai sveglia però Ah sì 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 Che il nemico è sempre in agguato Eh che vuoi tu stupido Ho trovato un'arma Me la posso tenere? Sì sì tienila E poi non allontaniamoci troppo L'un l'altro Gli uni gli altri Praticamente poi qua Nell'inventario ragazzi Una cosa molto importante Un veicolo Che ci salverà la vita Perché appunto Potremmo viaggere molto velocemente In questa mappa enorme Ma come? Ma dove l'hai trovato? Eh l'ho trovato praticamente Cercandone un po' Nelle mie tasche In giro Poi dopo l'ho trovato Nelle mutante Allora praticamente Lo faccio così E dovrebbe schiudersi Giusto? Non si sta schiudendo Non so come funziona Sinceramente Ah non si sta schiudendo Vieni qua vecchio Aiutami Arrivo 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 Dove sei? Sono sulla strada Eccomi mi vedi? Ecco qui Allora risolvi questa cosa immediatamente Perché io non capisco Che cosa ci sia Io intanto vado Un attimo a luttare Cioè nel senso A prendere le cose Mi sento un po' so forno E qua Però Ma come? Ma no 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 scherzo Non mi piace Però vabbè Se puoi più piacere Non piacere ovviamente Ho trovato un'armetta schifosa Insomma ho trovato una pistoletta Di che cos'era? Ah ok Buona Buona insomma Più o meno Tra virgolette però Non schifiamo nulla No no infatti Ma poi devo dire che Vero vero Mi fa piacere Scusa un attimo Ma voi due state parlando insieme Da soli Cioè Nick No 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 Cos'è che ti hai preso esattamente? No niente perché? Niente Ma stai scherzando Pure niente mi dici Che stavate parlando insieme Ah veramente Non me ne ero neanche accorto Scusa Pensa tu Allora Vediamo un attimo No no hai risolto quella roba là Del coso Eh più o meno Più o meno Non riesco ad aprirla È troppo dura È troppo dura Eh mi piace Non si riesce Eh Nick Allora tu Che cosa vuoi dire con non si riesce Ma dove si è finito Nick? Non si riesce ad aprire Sono qua con noi Sulla strada Nick cosa stai facendo con quella roba? Sto mettendo la benzina dentro il furgone Ma sembra un pisellino Ok allora Tu che lo vedi? Stai zitto tu che non stavo parlando mica con te Cioè io veramente non so questa cosa Questa insolenza Vieni dammi il pisellino Cioè no Allora In che senso Oddio no Oh Questo sta succedendo Sono per morire Non morite Vivete invece Io vi ho dato il cibo No aiuto Non morire mi raccomando Allora qua In effetti andare sulla montagna È un po' Brutto Difficile È un po' Faticoso Esatto Poi io non mi ricordo quella mappa là Ragazzi Cioè voi vi ricordate da che parte si deve andare per Eh mi sa che questo è il bordo mappa Dobbiamo andare avanti Vedi quella strada Ok 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 Allora Quanto per cento perfettamente quindi Ok Da questa parte si va mi pare da un'altra parte Non ce ne frega assolutamente niente Invece qua si va verso un volt Il volt 21 se vedete c'è scritto lì mi pare Ah che figata No che figata Ma gli altri dove sono secondo voi Che bello Adesso Cosa è successo Adesso andiamo No niente Cosa stai pensando tu schifoso vecchio No non ho pensato a nulla Pervertito Vabbè Pervertito Pronto polizia Ah c'è un maniaco qui No io non ho pensato a nulla No si invece lo so Allora qua c'è invece C'è come un altro buco Perfetto bene È pieno di buchi qua in giro Ma è E riempitori Cosa Abbiamo gli amici poco davanti Non so quanto Schifosi No no andiamo andiamo Scappiamo scappiamo Non siamo ancora pronti Non siamo ancora pronti Per sconfiggere questi Gli spari Gli spari Faccia allontanare No andiamo andiamo Ma che caspita è qua Oh Eh la nebbia questa Secondo me comunque li possiamo affrontare dai Sì sicuramente li potremo affrontare Non è perché saranno scarsissimi Anche perché poi siamo tre contro due Dai cioè per favore Dobbiamo vincere per forza Se no Eh in effetti Una vergogna Sì infatti siamo una vergogna per tutti quanti Però scusatemi eh Ma dove potremmo andare noi Per poter sopravvivere Eh seguire la strada Qui siamo già fuori strada Sapete cosa Dovete trovarmi delle bende Un po' in giro Quindi cercate le bende Ok io ne ho trovate Ok quindi tu le hai già Perfetto Appena scendiamo me le dai Grazie Ok forza Svoltiamo da questa parte Forza andiamo 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 Ok bene bene Allora dobbiamo trovare una città al più presto ragazzi Perché quelli là Chissà dove sono Magari ci stanno seguendo Tipo sono alle nostre calcagne E tipo ci vogliono far fuori Eh non va bene questa cosa Perché dobbiamo muoverci accidenti Dobbiamo muoverci E trovare qualche arma Adatta a tutte queste cose Perché se no Che caspita di fine facciamo Cioè moriamo così Moriamo malissimo Eh poi è anche un po' inquietante questa cosa Perché sinceramente Scusate ma se C'è qualcuno che ci sta seguendo in questo momento E quelli là potrebbero benissimo seguirci Perché Io li chiamo così Perché non perché abbia qualcosa contro di loro Ma perché sono i nostri nemici in questo momento Però Esatto esatto Porca miseria Ho troppa paura in questo momento Perché se ci seguono Ma comunque direi di affrontarli Cioè siamo qua in questo pulmino Eh ho capito Però non possiamo ancora Dobbiamo trovare Tutti una torre d'avvistamento Eh allora aspetta Fermiamoci un attimo Andiamo a vedere Vediamo la torre d'avvistamento Ok perfetto C'è C'è ok Ho trovato un fucilone Perfetto Sì che fucile Questa cosa È un fucile Ve la do a voi È molto buono Eh in realtà io ce l'ho già Ma vabbè Prendila non Ok vabbè Vabbè E poi qua un compass Praticamente si chiama Ci sarebbe una bussola Un compass utile C'è i proiettili Sì sì ma certo Ma in teoria sono queste Allora puoi Ma a te ha caricato Nonno vecchio Sì 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 Ha caricato Se vuoi ti do la mia arma Ok prova a darmi la mia arma Vediamo se funziona Perché se allora funziona Vuol dire che È quest'arma che non è compatibile Con le altre Con le mie munizioni bellissime Invece se io faccio così Eh però non va Eh Invece va Va però Era già caricato E allora non va bene Ok bene Ho capito proprio come funziona Tutto quanto Bene Ok bene bene Meglio Allora Adesso andiamo Forza Nick Sei pronto Allora praticamente Qua siamo allo scoperto Eh Qua c'è un cecchino Potrebbe benissimo Prendere e ucciderci immediatamente Quindi Non possiamo stare Esatto Quindi meglio se ci spostiamo E di salire vai Esatto saliamo E tu stai sveglio Nick Perché mi sembri proprio stupido Eh oggi Ma proprio stupido Cioè guarda Possiamo Ma possiamo morire male oggi Cioè tu stai scherzando E cioè tu Cos'è che fai Cioè sei addormentato Quando potremmo morire male Ok allora Qua ho trovato un campeggio Esatto Allora fermiamoci un attimo Magari troviamo altre persone Non credo Eh no E poi se le troviamo Le dobbiamo uccidere Perché No ma scusa no Loro Eh Sì perché dobbiamo rubare tutto quanto Cioè nel senso Magari vanno Girano solo in pace No 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 Dobbiamo ucciderle Perché Cioè cosa ci fanno qua dentro In questo modo Però sì ho capito C'è cibo eh Però non è che ci siano tante armi Per fortuna voi avete trovato Qualcosa Quindi Oh tante munizioni invece Buone queste Mi piacciono molto queste Molto buone E poi ho trovato Interessante Sì scusa tu sai Dire solo interessante Cioè ti devo sparare Un colpo nelle palle Eh Cioè No dai Nelle palle Era questa cosa Del gatto Dico No nel senso Tipo nelle palle Quelle là che sputa il gatto Avete presente Allora venite qua Anche da bullying Può essere no Sì anche nelle palle Da bullying ovviamente Certo Vabbè lasciamo stare Certo Cioè no sì Tutto Allora però Veramente Quel colpo nelle palle Te lo do Non solo con il fucile Però Allora quindi Che senso con il fucile Aspetta Cioè con cos'altro E con La mia gamba di ferro Perché praticamente Cosa faccio io Praticamente ho Una gamba di ferro E questa gamba Riesce per fortuna A scagliare Tutte le palle Che trova Pum 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 Stati attenti Perché potrebbe essere Un po' Un gioco pericoloso Aiuto Bene Ma è assai ambiguo Ma vabbè Ma no ma cosa dici Oh senti se tu sei Io sono un calciatore provetto Non so se sapevi Ah non lo sapevo Sì 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 Io calcio le palle ogni giorno Allora praticamente Venite qua con me Che dai però Ci sono avanti No vabbè Questo avanti Non si apre Eh bisogna spaccare Apri Apri Guarda spacchiamo Spacchiamo Vai Scusate ma c'è Siete edificio Ma cosa stavate dicendo Cioè tutti quanti Sopra di me Ma abbiamo spaccato Come un'orda Cioè veramente Ma vi piace Vi piacciono fare le orde Non c'è un caspito Bene Beh le orde sì dai E che cacchio Non è giusto Ma stai scherzando Cosa che hai detto Spero Mi dissocio Che anch'io In ogni caso Non lo so Cosa ho detto In realtà mi sono già scordato Hai detto le orde Sì dai Ma ci stai scherzando Oh sono morto Vabbè Sei morto No Eh sì Eh ma perché Allora Va bene Allora ti aspettiamo Un attimo Eh c'è un angelo Che ha detto Che sto volando Ma non è vero Vabbè Facciamo stare Arrivo Cioè vieni E poi Eccomi Ah ecco Ok allora dammi Dammi le bende Immediatamente Ci dobbiamo curare Ok allora praticamente Comunque ci stiamo parlando Addosso Se ricapita un'altra volta Io non ti dico Cosa succede Se ricapita un'altra volta Ma potrei Potrei urlare In giappo cinese Antico E sapete cosa vuol dire Quello Vuol dire E orecchie E orecchie Alla fine dopo Ma non mi cura Ma andiamo ad uccidere gli altri Eh sì Devi cliccare Forse perché sei già full vita Eh infatti sei già pieno di vita Se tu mi chiedi ancora una volta Di andare ad uccidere gli altri Io ti faccio fuori Con le mie mani Ok Ok scusa Bene Sono stato molto chiaro Non ricapiterà mai più Ecco Questo era l'importante Io volevo sapere questo L'importante è che non ricapiti mai più Bene Allora no Non siamo full vita affatto Quella cosa sopra Che abbiamo sulle teste Inganna Non è vero Ok va bene Non badate a quella Sì è stupida Hai tipo altre cose Perché mi sa che io Mi serve ancora Recuperare un po' di vita Sì e ho una bellissima Pozione di rigenerazione Oh la pozione Solo una Solo una Purtroppo sì Però dura un bel po' Ok allora daccela Daccela Tutti vicini Ecco qua Olè Bene 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 Adesso possiamo Ma funziona vero Ok sì ha funzionato Funzionato Sì 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 Bene bene No scendi Schifoso Non ti permetterò mai più Ok bene Adesso andiamo Forza Dobbiamo trovare qualcosa Qualche vampo Mi sto rompendo le palle Cercate anche voi I vampatti E come facciamo Perché lei Cercate Come facciamo Allora abbiamo della puzza Verde No tipo Come che si chiama Puzza Esatto Stiamo scoreggiando Particelle Aiuto Mi dice No dai Non si vede Niente Ma che caspita è Ragazzi È un po' Cullo È un po' Marcino Ripeto Dobbiamo stare Attentissimi Perché Oddio mio Aiuto Qua Succedendo Allora La patente Non scendere Vieni su Ma ci sono Allora la patente Io l'ho presa Dovete sapere Quando ero Praticamente Alle hawai Alle hawai Stiamo morendo Ma no C'era una vostra impressione Chiaramente Ma cos'è che c'è qua È un po' Che blocca Sì 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 No praticamente C'è una cosa Che a me è successo Spesso Praticamente Però adesso Cosa faccio Io Prendo questo Cosa In spalla Praticamente Fortissimo Sì ma perché Ma io L'ho detto Me l'hanno insegnato Nella patente No praticamente Era alle hawai E quindi Cosa hanno fatto C'è Un po' Di builder Sì sì Altro che Beh praticamente Mi hanno iniettato Pure la roba Di Hulk Adesso sono pure Hulk Quindi c'è capito Sono figliissimi Si si vede Ma comunque no Dobbiamo andare in giro Eh non è quella La direzione Sono affascinato Dei tuoi muscoloni Sì sì Grazie Nick Sono molto contento Per questa tua Però allora Praticamente Io non voglio sapere Da questi muscoloni Di cui sei affascinato Cioè io Mi dissocio totalmente No perché dai Era un complimento Alla fin fine No Grazie grazie Del complimento Bene bene Uno come un altro Sì 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 No ma infatti Anch'io C'è ogni giorno Poi dopo Mi hanno iniettato Quella pozione Del Di Hulk No Bellissima Sì pozione Iniezione Hulkosa Allora Però adesso Sti tizi qua Io non so dove sono E mi fanno un po' paura Perché noi stiamo Mi pare Ritornando Nella stessa direzione In cui li abbiamo incontrati Perché appunto Devemo ritornare indietro E non sto vedendo niente Per le caspita di nuvole Schifose Scurreggione Scagazzone Scagazzone Scaghignone Spruzzone Scrascone Esatto E poi Ma che cazzo Matteo Nonno Tu ti sei addormentato Tu ti sei addormentato Tu che caspita Stai facendo Nella tua vita Da vecchio Cosa fai Parla forte Sono un po' morto E vedo che sei Ma ti pare Il caso di essere morto In questo caso Dimmi un po' Scemo che non sei altro Lo so che siamo in guerra Però ci sono eventi Ancora più potenti Eventi Quali sono questi eventi potenti Eventoni Me ne frega qualcosa Chiudi Chiudi questi eventi Chiudi La porta degli eventi E vedi che non succede più niente Mannaggia gli eventi All'escurreggione Portone Adesso Forza Andiamo da queste parti Che dobbiamo trovare bene Quei tizi Anzi io direi ragazzi Ma sarà arrivato il tempo E però non abbiamo armi Ma io ho paura Anche io ne ho una C'è Futtile da salto E' nato io ho trovato una pistola Prima Se vuoi te la do Vabbè ok Aspettate un attimo Prima dobbiamo scendere Io direi però di trovare Almeno un altro avamposto Capito Per poter razziare un po' Di cose Perché Non sono soddisfatto Capite Spero che però qui Non ci siano i tipi Perché Se ci sono Esatto Ci potrebbero far fuori Cioè Allora Se eravamo prima Vabbè Maledetto Li ammazziamo no Sì sì In teoria sì Sarebbe molto semplice Però praticamente Cosa facciamo adesso Andiamo da questa parte no In teoria Loro saranno andati Chissà dove Ok bene E quindi Se sono andati chissà dove Noi non li prendiamo Giusto Non li incontriamo Poi dopo noi cosa facciamo Andiamo a trovarli Capito Tutto quanto di nascosto E poi dopo Li facciamo fuori Poverini Però mi fanno anche pena Perché sono in due Noi siamo Esatto Sono in due Sono in sbaggio numerico No Teo Tu devi Allora Devi parlare più alto Ultima volta che ti ripeto Chiaro No E poi Ci servono altre cose Per Per capito Cioè per rigenerazione Perché io sto Vedo che il mio corpo Vedo perché non lo so Eh io ho tre vende se vuoi Sì sì Le vende vanno benissimo Sono buone le vende Sono Eh io ne ho ancora Ma alziamo a questa città Esatto Era quello che pensavo di fare Allora te Nonno dammi questo Venga qua Venga qua Ok dove sei finito Grazie mille per le vende Quante Molto bene Adesso C Prima di tutto La gamba Perché povere mie gambe Sono morte totalmente Probabilmente per colpa del pulmino Io invece sono la testa Che è un po' un po' così Eh ma perché Eccolo là Perché stesse vecchio Eh io non so come fare a dirtelo Eh però tu devi alzare la voce Ah mi sto urlando Scusa No non dicevo a te Dicevo a Teo Ah ok Cioè Volevo dire a nonno Eh perché a volte capito Lo chiamo così Perché inconsciamente Però scusa Tu devi alzare la voce Eh ma se non posso No puoi puoi invece Sì che puoi Sì che puoi Puoi come Sennò Ci sono degli finti paranormali Eh mi spiace per questi eventi paranormali Però dovrai un attimo Cercare di congestionarti Scusate ma dove siete finiti voi Eh io sto un po' esplorando Ok state razziando tutto qua Poi mi dà le cose belle che trovate Mi raccomando Esatto Dunì se dentro questa casa Ho trovato una pistola Vieni Che è una pistola Ma se c'è che pistola hai trovato Perché Eh beh questa guarda Eh fammi vedere Una pistoletta Vabbè però la pistoletta Non è che sia Cosa è sta roba invece È uno zaino È uno zaino Vabbè se vuoi La prendo io la pistola Sì tanto è inutile Un pochino Cioè vabbè Vabbè la vuoi te però Cos'è meno anche una Una secondaria Allora se hai trovato Eh però ho trovato una cosa qua Eh Non c'è un cazzo Tipo tipo Ma dai ma non c'era niente Non lo so C'era una cesta russa Cioè C'era una cesta russa Sì 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 Vabbè Dai la pistoletta però me la prendo Chissà Cioè nel caso di combattimento No no perché di qua all'anno Non ci sono i proiettivi Questa Ma fammi vedere Va bene dai dammi questa Ma dove siete Io non so dove siete Eh siamo sempre qua Nei che siamo andati Chissà dove È stupido Non mi dire che ti sia allontanato Guarda che ti sparo Un colpo in testa Ok su Minecraft Ovviamente il colpo in testa Vieni vieni Caricatori della tua arma Bene bene Dammi questi caricatori Grazie grazie E quale arma hai trovato tu Questa qui È bellissima Va bene Va bene Va bene Allora Tu Teo Eh volevo dire nonno Tieni Sono gli eventi paranormali Tu tieni queste cose Ah no aspetta Ho sbagliato caricatori Quelli da sono della mia arma Eh sei un po' stupido Però scusami Come faccio Non mi hai dato le munizioni Tu di quest'arma Devi dare le munizioni Eh credo invece che le luissi Eh si è ripresa te Ah davvero E ridammele stupido Eh no non ce le ho Come non ce le hai Allora ce le hai tu Dammi immediatamente No non ce le ho io Aspetta quasi Se vuoi ti do tutte le munizioni che ho Ragazzi siamo arrivati Li vedete sono là Finalmente Io li ho visti Allora venite Appostiamoci qua dietro gli alberi Praticamente dobbiamo stare attenti Nick vieni con me Non andare lì Ah ok Mi devo avvicinare di più Eh fai male invece Perché questi qua ci possono piantare un colpo in testa E ucciderci immediatamente Allora adesso sto caricando la mia arma Perché per fortuna ho trovato dei caricatori Quindi Buono Grazie nonno che me li hai trovati Prego Allora Poi Vedo là uno sopra la casa Ok uno Quindi uno è stato avvistato giusto Allora praticamente Dividiamoci in questo modo Dobbiamo aggirarli Allora tu Nick vai da quella parte Però mi raccomando Stai attento a non morire Da quella parte Tipo vedi esatto Da quella parte Lì sulla montagna ti apposti e cerchi di sparare Tu nonno invece vieni con me a corpo a corpo Ok Eh ma te non avevi anche un cecchino Eh Allora questo non so Non è un cecchino Avessi più o meno è un cecchino dai Allora vieni Insomma fa un po' schifo come cecchino Però in teoria dovremmo riuscire a farcela Prova colpirlo Guarda 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 Beh No porca misera Dobbiamo caricare Mi sa che ci ha visto Oh ma mi ci ha visti oh Eh ma io so Ok allora dobbiamo concentrarci di più Perché Ma dai Forza Un fucile a pompa Io se vuoi ci vado io da vicino Ok allora tu vieni con me Eh Mannaggia Parlo da lontano Tu hai solo il fucile a pompa Nick Eh sì ho anche un mitragliatore però Ok ok allora vieni 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 Io devo ucciderli Mannaggia Ma non li sto colpendo Allora basta Ci vado con questo Sì vieni Vai andiamo Io vi faccio supporto da dietro Ok Vieni supporto M'hanno colpito M'hanno colpito Porca miseria Ok ho ucciso uno Sì Bravo Mannaggia Nick se ti metti davanti Vieni dietro Dove caspita sei andato Arrivo Eccolo E qua è qua Dove sei finito Guarda che sei Non è che sei morto vero No non so Denis Tu mi sei qui Porca miseria No carichiamo 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 Sto scappando Io non posso correre perché mi ha già ferito Ok 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 Coperti State coperti Idioti Non state lì in mezzo al campo che potrebbero uccidere Potrebbe uccidere Sono poco furbo C'è uno ancora morto Mi pare che si chiama Once Corpio E qua Esatto E qua E qua da me E qua da me Nick Dove sei E dove sei tu però Dimmi Tu qua dove c'è una casa E una casa E' pieno di casa E' quasi morto E' quasi morto Ok 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 Mi raccomando E tu Se muori Va bene Devo un attimo curare Ok bene 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 Tranquilli adesso ci penso io Era qua Vai 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 Mi pare abbastanza semplice E poi dietro No mannaggia sta scappando Vieni 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 Andiamo Vai corri Forza Uccidiamo Mamma mia Finalmente Oddio grazie Allora noi siamo stati molto fortunati Siamo stati molto fortunati devo dire Però bene Siamo riusciti a sconfiggerli Adesso andremo magari ad uccidere qualcuno